La mafia a Palermo ha sempre influenzato la vita di tutti e in particolar modo la mia. La vedete quella ragazza? Si chiama Flora. Io sono innamorato di lei da quando eravamo bambini. Qua dice che la mafia ammazzò il maresciallo a tiri o buon incontro? Qua mafia è male? Secondo me è tutta una questione di fede. Filippo vedi che non la puoi sposare. Sono innamorato perso. E contro le regole di Cosa Nostra. E figlia di genitori divorziati. Io se lo so tutto permette, una idea ce l'avrei. Ammazziamo il padre. Sa, 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 salvo Lima. Prova salvo Lima. Io ho accettato il lavoro per stare con te perché c'eri tu, perché hai da una vita che ti... Reggo che tu, da bambino, volevi fare il giornalista. Dove stai andando? All'intervistare dalla chiesa. L'onorevole Andreotti dice che l'emergenza di criminalità è in Campania e in Calabria. Generale, ha forse sbagliato regione? No, non capisci come funziona. Ti l'ho spiegato di nuovo. Se sente caldo, deve ammaccare questo, neve. Vede, neve. Se invece sente freddo, ammacca sole. Ma qualche giorno dopo, Totorina capì come funziona un telecomando. Hanno dimostrato che lo Stato non è con noi. Forza, 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 forza. Ma la mafia può uccidere anche noi. Tranquillo. Ora siamo d'inverno. La mafia uccide solo d'estate. La mafia uccide solo d'estate.